Oltre due anni di legislatura e sul progetto di un nuovo canile comunale a Pescara, l'amministrazione Masci ha messo a registro solo tante promesse, spesso contraddittorie e nessun passo concreto verso una soluzione. Questa è l'accusa del Movimento 5 Stelle di Pescara che attraverso le parole del consigliere Paolo Sola ripercorre le tappe di un percorso fatto di interventi annunciati e poi smentiti, progetti ambiziosi e grandi investimenti poi riposti nel cassetto. Dopo due anni di consigliatura diciamo che l'amministrazione Masci in realtà soltanto ha messo a registro una serie di promesse e progetti più o meno ambiziosi senza fare mai un reale passo concreto verso la risoluzione della vicenda, cioè quella di dotare la città di Pescara di un nuovo canile comunale. Ora l'opportunità si era creata con un bando del Ministero dell'Interno che metteva a disposizione appunto 10 milioni di euro proprio per gli enti in predissesto finanziario quindi come il Comune di Pescara per mettere a norma canili già esistenti o crearne di nuovi. Nel mentre il Comune di Pescara diciamo che rincorreva la disponibilità di un benefattore privato che si era messo a disposizione per cedere gratuitamente un terreno. Fermo restando che invece poi questa iniziale disponibilità è stata accompagnata da una serie di condizioni imprescindibili, inaccettabili per il Comune come ad esempio il fatto di dover prendere per buono un progetto già realizzato da un tecnico di fiducia del privato, la volontà del privato di conservare la proprietà di una unità immobiliare all'interno del futuro canile e come anche la volontà di nominare un suo responsabile di fiducia che gestisse poi in un secondo momento le adozioni canine quindi scavalcando anche l'associazione che avrebbe gestito la struttura. Quindi chiaramente condizioni inaccettabili. Noi però nel frattempo non avendo altra progettualità a nostra disposizione come Comune abbiamo ben pensato di partecipare a questo bando presentando comunque questo progetto di cui in realtà non abbiamo la proprietà indicando quel terreno per la realizzazione, terreno che ad oggi non è effettivamente nelle nostre disponibilità. Quindi il paradosso è di rischiare di vincere un bando e non poter utilizzare il finanziamento perché non disponiamo né del progetto né del terreno che abbiamo indicato nella domanda di partecipazione.